Parliamo di un'avventuale apertura di una società in Spagna. Questo paese, tra quali dell'Unione Europea, è uno dei maggiormente appetibili, maggiormente interessanti da questo punto di vista, per due ordini di motivi. Il primo è perché le aliquote sono molto più basse rispetto a quelle italiane e secondo perché rispetto all'Italia, oltre alla tassa sui redditi societari, non ci sono altre tasse da pagare. Il territorio spagnolo è formato dalla Spagna continentale, dalle isole Baleari, dalle isole Canarie e dagli enclavi di Ceuta e Melilla, che si trovano in Marocco. Per questi due enclavi, quindi due territori racchiusi all'interno di altri paesi, c'è un regime fiscale speciale. In Spagna c'è una differenza tra società residenti e società non residenti. Le società residenti sono soggette all'imposta sui redditi societari, che trova applicazione in base al principio della Worldwide Income. Secondo questo principio, un contribuente è soggetto all'imposizione fiscale in base alle leggi del paese di cui ha la residenza, indipendentemente da dove si trovi e dal luogo di formazione dei redditi. Le società invece non residenti sono quelle che non sono registrate, secondo la legge spagnola, e che non hanno in Spagna la sede legale o la sede principale della gestione. Su DS grava l'imposta sui redditi dei non residenti, quindi verranno tassate in base agli utili commerciali e sui capital gains, ma soltanto in relazione al reddito di fonte spagnola. Vediamo adesso le differenze tra le aliquote. Per le società residenti, dal 1 gennaio del 2016, l'aliquota è pari al 25%, a cui si applica ulteriormente una sovraimposta legata all'iscrizione alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda il settore degli idrocarburi, la tassazione è pari al 30% e c'è una aliquota ridotta, pari al 15%, per le piccole società con utili fino a 10 milioni di euro, sono considerati anche gruppi di piccole società, e per le società di nuova formazione, ma per i primi due anni in cui viene registrato il primo utile. Chi sono i soggetti imponibili? Le società di persone, le società responsabilità limitata, le società per azioni, le holding, i gruppi di interesse economico, le fondazioni, le società cooperative, i fondi di investimento, il raggruppamento temporaneo di società, le società di capitali di rischio, i fondi pensione, i fondi di investimento garantiti, i fondi per la regolamentazione o la conversione di mutui ipotecari, e i fondi per la convenzione di titoli delle attività. Il periodo di imposta coincide con l'esercizio commerciale, ma non può superare i 12 mesi. Per quanto riguarda invece le società non residenti, l'aliquota è del 19% se si tratta di non residenti situati nel territorio dell'Unione Europea o dello spazio economico europeo, mentre per società non residenti situati al di fuori, in altre giurisdizioni, l'aliquota è pari al 24%. I capital gains vengono tassati al 19% e per le società invece con una stabile organizzazione, l'aliquota sarà pari al 25%. Per le società non residenti operanti nel settore degli idrocarburi, la tassazione è invece pari al 35%. Bene, le società non residenti operanti nel Cross dabei o da 100%. La gente èforto di condizionza per la trasformazione un'altra domanda è in grado,